E siamo, l'avrete subito riconosciuto, al fianco di un'opera di un altro grandissimo maestro e parliamo di Enrico Paolucci con le sue marine, con il suo periodo non figurativo e con queste meravigliose assemblanze di colori e di geometrie. Questo suo periodo, questa opera che è degli anni 70, che riprende appunto il momento in cui lui inserisce sempre di più tutta una serie di soluzioni geometrizzanti e con dei cromatismi sempre molto vivaci e ovviamente richiamando sempre il mare della sua Liguria, della sua amata Genova. Beh, intanto la sua Liguria, la sua amata Genova, amata da tanti altri pittori del gruppo dei sei di Torino, perché non dimentichiamoci Paolucci con Gigi Chessa, con Nicola Galante, con Carlo Levi, con Jesse Baswell, insomma faceva parte del gruppo dei sei di Torino, quell'importante movimento fondato attorno alla fine degli anni 20, nel 29-30 e con quel grande personaggio, quel mecenate che era Gualino. Ma non dimentichiamo neanche la vicinanza di Paolucci con Casorati, tanto che nel 34 loro aprono il loro studio Casorati Paolucci, quindi stiamo parlando di un altro grandissimo maestro della pittura italiana del Novecento. Ah, e qui abbiamo veramente la vitalità, la potenza espressiva di Paolucci, si sente il soffio dell'acqua salmastra iodata del mare, si sente la gagliardia delle giornate calde, piene di colori, di vita, di movimenti, guardate i pesci, guardate le barche, guardate le vele, le bandiere, questo sole intenso addirittura con i cerchi concentrici che è lì, libero, gli alberi delle navi non gli vanno davanti, lo lasciano esprimere in tutta la sua potenza, in tutta la sua carica e poi guardate che coloriture, quasi un Luna Park, un Luna Park fatto di gaiezza, di barche, alcune rovesciate sulla battigia a riposare, a asciugarsi, alcune in attesa di essere messe in mare, alcune in piena navigazione. Meraviglioso, meraviglioso Paolucci che sempre ci stupisce con i suoi paesaggi, sia marini, ma attenzione abbiamo di Paolucci anche un paesaggio dell'entroterra piemontese e in particolare delle colline. Allora vado subito, dopo avere così brevissimamente descritto questo Paolucci, andiamo subito a vedere gli aspetti tecnici di questo Porto Blu risalente agli anni 70, un bellissimo, potente, oserei dire quasi cantante, cantante, siamo in periodo di Sanremo, siamo in periodo di mare e questo Paolucci che canta, è un inno alla gioia dei colori della vita del mare, dei cieli luminosi, blu, profondi della Liguria, spazzata da un bel vento, le bandiere, le banderuole marinare garriscono mosse dall'aria, dalla brezza marina. Allora, opera firmata in basso a destra, bella, importante, 50x60, olio su tela, già appartenente alla Galleria Biasutti di Torino, c'è l'etichetta al retro che lo dimostra e poi opera autentica registrata nell'archivio delle opere di Enrico Paolucci in data 26 ottobre 1991 con il numero 948, quindi tutto quello che serve sempre per rassicurare le persone che sono amanti dell'arte vera, autentica, quella che noi qui unici a Casa d'Aste Sant'Agostino rispondiamo delle opere a tempo indeterminato e questo fa capire la serietà di approccio verso le opere, verso gli artisti e soprattutto verso i nostri clienti che sono sempre grandi intenditori dell'arte vera, che siano clienti che si affezionano da anni, che siano clienti da anni appassionati, che siano clienti che si avvicinano ad esso, non importa qual è, come si dice, la possibilità di spesa della tasca, non importa che sia una cifra piccola, che sia una cifra importante, sempre voi avete la certezza di acquistare un'opera d'arte autentica e questa è la nostra dimostrazione di rispetto totale verso l'arte e verso gli acquirenti. Stima molto contenuta, una stima giocata per difetto, 5.000-7.000 euro a fronte, signore e signori, un Paolucci degli anni 70, noi qui lo stiamo ponendo a base d'asta, attenzione, segnatevelo perché voi ci chiamerete di fronte a questo piccolo capolavoro, a questa chicca meravigliosa, splendente di luci e di colori, sentite la cifra, base d'asta soltanto 3.500 euro e se qui non sento squillare i telefoni e se qui in casa d'asta e Sant'Agostino non arrivano le vostre opzioni su questa base d'asta, e beh, allora dai, insomma, 3.500 euro per un Paolucci, chiamateci, io non dico nulla, sono certo che voi i vostri conti ve li sapete fare, se non siete appassionati alla poetica che trasmette quest'opera sicuramente sarete sensibili al buon investimento oppure, cosa migliore di tutte e come fanno tutti i collezionisti, siete appassionati ad entrambi, siete appassionati all'arte, siete sensibili al buon investimento che non guasta e allora i telefoni devono squillare. 3.500 euro per base d'asta di questo Paolucci e andiamo subito ad ammirare l'altro Paolucci che vi aspetta nell'asta 117 di lunedì 19 marzo.